Eee, urca bilurca a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Abbiamo appena finito la live della patch Bisacchissima, abbiamo aspettato un bel po' Abbiamo avuto anche paura di non riuscire ad entrare perché ci dava 3 ore ma hanno sistemato i server Andiamo in uno di questi 3 punti ragazzi per completare la missione di atterrare al checkpoint degli assalitori E finire in top 25, dunque basterà appunto atterrare qua E ora ragazzi cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare appunto a finire in top 25 Ovviamente ragazzi la missione in singolo è un pochino più difficile Ma in squad è più semplice perché essendo più persone è molto più semplice Dovrebbe essere la top 6 in squadra Non lo sappiamo bene ancora dovrebbe essere dunque quante Un bel po' di persone rimaste comunque Un bel po' di persone rimaste Dunque ragazzi ora dobbiamo semplicemente andare a finire in top 25 e completeremo questa missione Dunque in questo caso io sono in singolo Appena in alto a destra il counter scoccherà a 25 Avremmo completato la missione veramente in un modo semplicissimo ragazzi Dunque boys questa è la missione veramente easy Io riceveremo 30.000 XP molto molto easy A qua tra l'altro c'è anche una taglia dove proprio eravamo noi Dunque molto molto fucking easy Pare colpi con una spada laser molto semplice Insomma dobbiamo fare appunto questa missione Questa è la missione vi ricordo appunto meglio in squad chiaramente Dunque ragazzi ci vediamo tra pochissimo con un nuovissimo video guida Ben ragazzoni